eccoci qua vediamo chi è il primo vediamo chi è la prima scusate il ritardo mezzanotte un quarto sono a marina di modica in provincia di ragusa e il programma ci vedeva insieme a mezzanotte vabbè un quarto d'ora in più abbiamo mangiato un ottimo pesce e ringrazio carmelo che è lo chef del ristorante corallo dove siamo andati che mi ha regalato anche la maglietta e ha pubblicato il suo video e wow wow anonymous beckham italian boy agostino magnussen andrea grazie allora stasera abbiamo messo la domanda per questa manciata di minuti fra il lunedì e il martedì notte per chi ha in sogna e per chi ha voglia di stare per qualche minuto insieme visto che è uscito un sondaggio che dice che quasi la metà dei ragazzi fra i 18 e i 34 anni non vota il 25 settembre lo chiedo a voi saluto andrea dall'albania saluto maria saluto davide dal brasile saluto thomas dall'argentina saluto trimon siamo alcune centinaia poi saremo alcune migliaia saluto giusi che ha mandato la prima rosa grazie ho scoperto che chi manda le rose mi mette i cappellini gli occhialini manda anche un piccolo contributo che io girerò in beneficenza quindi la rosa di morena la rosa di leonardo e tutti i gadget che mandate durante questa diretta compresa tara che mi manda una rosa gigio alex non finiscono in saccoccia compreso il cappellino al matteo salvini ma vanno in beneficenza quindi se avete 50 centesimi o un euro da dedicare al prossimo poi decideremo insieme se all'avis se ai centri aiuto alla vita se ai centri di recupero per ragazzi che combattono contro la droga se alle associazioni per le ragazze le donne maltrattate ecco questi queste rose questi cappellini questi bicchierini questi doni che voi mandate durante la diretta finiranno ad aiutare qualcuno e quindi anche questo serve a qualcuno però la domanda ripeto oggi bellissima giornata siciliana abbiamo cominciato alle 10 di questa mattina a reggio calabria una marea di gente ho trovato degli studenti aspiranti di medicina che mi hanno detto matteo tieni duro togliete il numero chiuso a medicina impegno preso a fare fatto poi siamo stati a messina il ponte sullo stretto c'era un bellissimo gruppo di ragazze e ragazzi studenti universitari che vogliono viaggiare velocemente in sicurezza senza inquinare il mare il ponte sullo stretto di messina è un dovere morale non solo per i siciliani calabresi ma per gli italiani tutti poi siamo stati a comiso poi siamo stati a scicli dove abbiamo incontrato 200 imprenditori pescatori agricoltori e stasera marina di modica mangiare un ottimo pesce a incontrare tante ragazze e tanti ragazzi che mi hanno detto matteo fai la diretta tiktok che vogliamo esserci anche noi uno mi chiede sei per messi o per ronaldo per messi tutta la vita messi è la poesia del calcio anche se da milanista ovviamente per me gullit van basten e rai card sono il top ringrazio gaetano che sta mandando tanti pensierini ringrazio giulia filippo che vorrebbe fare una live insieme non sono ancora maturo per fare live insieme ma lo faremo ce la faremo ringrazio chi mi manda la carona la coroncina ringrazio caroline ringrazio hop house uno mi dice quanto costa la tua collana penso che costi due euro non di più mi è stata donata da una ragazza ed è il tau francescano è la croce francescano non penso che il valore economico sia enorme ma il valore affettivo lo è tanto come i due braccialetti che ho vi faccio vedere uno vabbè quello del milan e l'altro è un braccialetto che mi ha donato un ragazzo che non c'è più andrea che per anche lui milanista lo devo dire che per qualche anno ha combattuto valorosamente contro una malattia bastarda ha resistito non si è mai arreso si è fatto curare in italia si è fatto curare in israele e poi purtroppo qualche settimana fa non ce l'ha fatta e ci segue da lassù per chi crede quindi questo braccialetto che una volta era colorato adesso è semplicemente un braccialetto nero io me lo tengo in ricordo e in omaggio ad andrea e quindi questo è non è un gran valore ma per me significa tanto allora siamo quasi 7.000 cappellini roselline bicchierini chi di voi ha deciso di votare il 25 settembre prova a leggere in diretta antonio andrea camilla roberto luca castelli andrea da sassari questo che mi dice chi vince il derby l'ha già vinto l'inter è chiaro che il derby lo vince l'inter è chiaro che l'inter è nettamente favorita anche senza luca con un c'è partita quindi sabato pomeriggio alle 18 se io vado a san siro con mio figlio ci vado già consapevole del fatto che la partita è persa perché l'inter vincerà almeno 3 a 0 o no ringrazio franca che ha mandato 68 rose bacione quindi stavo dicendo sfatiamo il mito di queste ragazze di questi ragazzi che se ne fregano dell'italia del futuro della politica perché la politica poi entra in casa vostra nella vostra scuola nella vostra università avete deciso per chi votare ovviamente il voto è segreto e non voglio farmi gli affari vostri chicca mi chiede di fare una live insieme qui c'è giuseppe chi c'è ma se io digito accetta chicca che vuole fare la live insieme che succede aspetta un attimo che siamo no facciamo siamo tre brutti tre brutti gli altri due sono interisti e altri uno dice salvini chissà con che compagnia è quel c'è oggi ma che roba ma che roba da domani i bacini sono due interisti uno pugliese uno lombardo e uno col cappellino però va bene ma quindi se io accetto la richiesta di live cosa succede che facciamo una live insieme e quindi chi fa la live con me può dirne di tutti i colori quindi magari meglio aspettare un attimino vabbè stavo chiedendo chi ha deciso di votare e magari ha deciso di votare lega vedo mohamed vedo ciro vedo luca luca 31 rose 32 33 34 35 36 37 38 39 licia mi chiede mi fai vedere il mare di modica aspetta un attimo arrivo sul terrazzo aspetta un attimo probabilmente non si vede una mazza ecco lì c'è la piscina manco toccata e dietro c'è il mare splendida sicilia splendida costa ragusana il mare più bello del mondo c'è in italia ma chi va all'estero che cosa c'ha qua zekar mi dice mi saluti salvo bella bro bella bro insomma fra di voi e siete quasi 10.000 il lunedì notte chi è che vota la lega sebastiano ha già deciso che vota la lega marty mi dice bella bro marty c'ho quasi 50 anni quindi bella bro comunque mbaie mbaie 6 9 5 facciamo una live insieme mbaie mbaie aspetta un attimo mi devo impratichire con sta roba e poi magari faremo le baie le dirette insieme e mister vuole fare la diretta insieme anche lui siamo in 10.000 magari facciamo 10.000 dirette roselline cappellini bicchierini beneficenza tante idee mi raccomando matteo tieni duro basta il numero chiuso medicina matteo non mollare la battaglia per i libri di testo gratuiti giuseppe mi dice legalizza la droga no 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 hai trovato il tizio sbagliato la droga è morte la droga è merda la droga è fango non esistono droghe buone amico mio divertiti con gli amici con le amiche con la ragazza con lo sport col cinema col teatro con la chitarra con una buona birra con un buon bicchiere di vino con un mirto un limoncello ma lascia perdere la droga la penso così hop house è a 20 rose ez 666 non so cosa voglio dire ezzzzzz 666 è a 57 rose antonella il mio primo voto sarà per la lega grazie 18 anni che voteranno lega per la prima volta ci siete fatemi chi è il tuo giocatore preferito del milan chi è il mio giocatore preferito del milan bella domanda allora in passato franco baresi del milan attuale chi è il mio giocatore preferito tonali sandrino tonali da sant'angelo lodigiano cuore rossonero maglia rossonera mister mi richiede di fare la live insieme ancora mister ti ho detto no magari domani sera dopo domani stasera no sono straco morto sono le 0 24 siamo in 13 mila contemporaneamente ciro mi saluta timbras luca mi manda 75 rose luca però la mia fidanzata si chiama francesca mi potresti stare simpatico potresti marti però la mia ragazza si chiama francesca appena compiuto 30 anni e sta seguendo la live le mando un bacione ringrazio o pause ringrazio team che mi manda le rose allora vediamo monica non ho mai votato e penso che voterò per la lega grazie monica fra i nostri programmi ripeto la tassa al 15 per cento soprattutto per i ragazzi che si aprono la prima partita iva con una start up con una nuova attività pagano solo il 5 per cento di tasse per i primi cinque anni quindi scommettiamo sui giovani che hanno voglia di fare saluto giulietta saluto edoardo salvatore mi dice forza napoli no su questo salvatore io oltre che forza milan non potrò mai cambiare idea neanche per prendere un voto in più posso essere aperto ai vostri suggerimenti ma il milan dal cuore non si toglie sono fatto così saluto fernando michela mi dice vivo all'estero posso votare lega anche all'estero sì gli italiani all'estero possono votare per posta per posta quindi si può votare lega in tutti i paesi del mondo da dall'europa sud america al nord america l'australia la nuova zelanda mister continuo a invitarmi a fare la live insieme mister amico mio t'ho detto stasera non ce la faccio a milan sedis su strac stasera su un strac mister ghela funò parlo da milanese imbruttito magari domani domani sono la mattina a gela nel pomeriggio in provincia di agrigento poi a camarate domani sera a palermo se c'è qualche palermitano domani sera siamo insieme fino a tardi non solo con la live ocio che arriva al limoncello ocio che alle 0 26 insieme al cappellino mi arriva al limoncello allora casce mi chiede quando a monza a monza probabilmente l'undici quando c'è il gran premio di formula 1 per incontrare anche un bel po di bella gente saluto davide saluto elia saluto saluto alessandro saluto lele che mi ha messo mi piace ti piace napoli come città stupenda mi piace napoli mi piacciono i napoletani mi piace quella cucina quella cultura quella musica però calcisticamente parlando ragazzi maradona è stato un grande un eroe però son nato milanista e muoio milanista a me nella vita nel calcio e in politica non piacciono quelli che cambiano idea ringrazio per la coroncina o mister non si non si rassegna mister continua a chiedermi fa sta live insieme mister no stasera no cosa hanno portato qualcosa c'è liquore la liquirizia caffo no non mi piace la liquirizia sono nato siciliano e amaro unni maffissu non so non lo conoscevo facciamo un cin due interisti riuscite a va bene fa lorenzo mi dice ti stimo lo ringrazio quando a verona a metà settembre sempre forza milan e forza lega vediamo se trovo qualche altro diciottenne che dà il suo primo voto alla lega al prossimo 25 settembre alla faccia dei giornalisti che dicono che i giovani italiani se ne fregano di tutto e tutti la politica entra in casa vostra la politica decide quante tasse pagano i vostri genitori a che età si va in pensione quanto costano i libri scolastici chi può frequentare le facoltà universitarie chi sono gli insegnanti quanti clandestini sbarcano chi sceglie la lega chi sceglie salvini chi sceglie questa faccia sceglie la legge le regole l'ordine la sicurezza basta con migliaia di clandestini che sbarcano dalla mattina alla sera non se ne può più in italia entra chi ha il diritto di entrare in italia entra chi ha il permesso di entrare non possiamo ospitare tre quarti del mondo con milioni di italiani che non ce la fanno a tirare a fine mese è questo ragione si tratta di essere cattivi razzisti egoisti fascisti in tutto il mondo e sfido chiunque a dire il contrario per entrare in un paese deve avere i documenti deve avere il permesso provate voi perché vedo che qualcuno scrive devi fare entrare tutti gli immigrati vergognati ma prova tu domani andare in svizzera in germania negli stati uniti in australia in nigeria in arabia saudita in marocco a dire entro non ho i documenti non ho quattrini non so far niente non posso far niente ma ho diritto di entrare voglio la casa voglio il lavoro voglio 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 è l'erba voglio non esiste neanche nel giardino del re in italia io la penso così entra chi ha il permesso di entrare rachele sceglie la lega alex dice non votate sto tizio alex il bello della democrazia che non scegli solo tu scelgono loro e quindi alla vostra salute un brindisino un abbraccio grazie per le rose grazie per i cappelli quando a lecce a lecce ci sono stato da poco in salento sarò a bari il 19 settembre la sera nella splendida terra di puglia siamo in 10.000 mezzanotte e mezza roba da matti starei con voi per ore però domani ci si alza presto per andare a gelare fare il giro della terra di sicilia però domani sera se avete voglia ecco magari ancora una chiacchiera con un caffè e una mazza caffè ce la facciamo c'è mister che non si rassegna o continuo a chiedermi fare la live in diretta amico mio amico mio ma neanche la mia fidanzata è così pressante fate in una ragione aspettiamo un attimino matteo rifacci vedere la piscina un attimo un attimo eccoli il mare di sicilia la costa lagusana la costa di modica la costa di sicilia alla vostra salute ragazze ragazzi un dito è mai eccedere col bere col tabacco con le sigarette mai eccedere sempre con moderazione oggi ho visto che c'è stato casino sul video di nedved non so cosa ne pensiate io ho visto questo video festeggiava insomma festeggiava in compagnia di qualche amico di qualche amica e ragazzi ma uno nella sua vita privata sempre rispettando la legge le regole la morale potrà starsene un po' tranquillo senza che i guardoni entrino in casa sua e sbircino dal buco della serratura quindi viva la gente che si sa divertire tranquillamente pacatamente onestamente serenamente legalmente mi chiedono di salutare luca berti non lo conosco ma lo saluto alla tua chi è chi è lo saluto chi è no quello è nicola berti non è luca berti ma che interista farloco sei quello è nicola è nicola berti quello io non so chi sia luca berti però anzi nicola berti era uno dei giocatori che mi stava meno simpatici perché era uno dei più forti quando c'erano i derby inter milan comunque saluto fabrizio e saluto fabrizia manco si fossero messi d'accordo saluto bay saluto anthony saluto felice dalla germania saluto serena che ci segue dalla svizzera matteo non vedo l'ora di votarti grazie sorella mia in bocca al lupo buona vita buona fortuna mi saluti salvo per favore giuffre mi saluti pio 76 grazie per gli occhialini grazie per i cappellini ripeto ho capito che sono piccoli contributi economici che andranno tutti in beneficenza quindi anche questa diretta oltre che partorire idee sorrisi riflessioni magari raccoglie qualche euro che serve ad aiutare qualcuno saluto antonio croce antonio mi dice no alla leva obbligatoria parliamone antonio secondo me un anno di servizio civile servizio militare con nozioni di pronto soccorso di spegnimento incendi di salvamento in mare di di utilità pubblica può servire a tante ragazze e tanti ragazzi per avere un'idea di come vivere serenamente in questo mondo saluto daniel saluto nuca nuzzi saluto meme che parlamma fa spero di averlo pronunciato giusto mi chiede di fare una live insieme non sono ancora abbastanza sveglio e maturo per farlo saluto carmix saluto matteo da canicattì saluto dennis saluto ronaldo saluto un'amica di alba loi sta mandando 36 rose grazie mi saluti mi chiamo benito lo faccio volentieri quelli che bestemmiano sono dei poveretti degli sfigati delle nullità non li saluto evitate di perdere tempo andate a fare altro andate a fare una passeggiata andate a mangiarvi un gelato studiate un po di storia guardate qualcosa su netflix non rompete le scatole venendo qua a bestemmiare non vi fa dei grandi uomini mi saluti elena con dei cuoricini alla tua salute elena c'è sto mistero che non si era mister non sei il mio tipo ho altri gusti in democrazia funziona così non sei il mio tipo non facciamo la live insieme fatene una ragione che ti devo dire mi saluti veronica la mia migliore amica è rumena benvenuta sorella chi è qua e rispetta le regole è mia sorella e mio fratello e viva le tante ragazze i tanti ragazzi arrivati dall'estero che sono qua per arricchire il nostro grande straordinario generoso e accogliente paese si è fatta una certa come dice mio figlio a 19 anni mi hanno messo in testa una corona di fiori ma che bello che sono ma perché siete ancora in 10.000 a mezzanotte e 34 questa è la domanda perché c'è voglia di ragionare perché probabilmente non ci sono politici che ascoltano poi qua c'è gente che magari la lega non la voterà mai però il matteo ha voglia di capire di confrontarsi sulle università sulle scuole superiori sulla riforma degli istituti tecnici sul libero accesso alla facoltà di medicina io sono contro i numeri chiusi sono contro i divieti sono contro gli obblighi sono per le libertà per la libertà educativa per la libertà di pensiero per la libertà economica per la libertà di scelta sono per le libertà non mi piacciono gli obblighi le costruzioni sono da regimi comunisti tendenzialmente ringrazio alessandro ringrazio andrea 91 ringrazio abdallah benvenuto amico mio voto lega voto lega voto lega vincenzo mi chiede quando a cittadella in provincia di padone in provincia di padone vado a memoria la mattina dell'otto settembre allora il 2 settembre sarò in lombardia in emilia in romagna e la sera nelle marchi a senigallia il 3 settembre a fano la mattina poi in romagna e poi ragazzi c'è il derby ragazzi c'è il derby sabato 3 settembre ore 18 stadio di san siro milan inter tutto esaurito la curva sud che canta e purtroppo l'inter che vince finirà così poi il 4 sarò a cernobbio la mattina a como nel pomeriggio poi a salò a toscolano maderno a riva del garda poi bolzano poi treviso poi udine poi voi ho preso l'abitudine ho preso il vizio siete un brutto vizio chiacchierare con voi mi piace leggere alcuni dei vostri messaggi sono migliaia non riesco a leggere tutti però mi piace grazie perché alcuni spunti che mi date poi li approfondisco durante la giornata passo qualche ora in macchina leggo i giornali leggo le mail rispondo ai whatsapp preparo alcune proposte di legge però provo a curiosare anche su tiktok guardando alcuni dei messaggi durante le live durante le dirette qualcuna delle vostre proposte può diventare un futuro legge un emendamento una proposta un qualcosa che vale perché per me le vostre idee valgono non siete anonimi nickname dietro una tastiera mi interessa capire come la pensate sulla scuola sull'università sul lavoro sul servizio militare sulla musica sulle droghe no sulle droghe gli unici che non capisco sono quelli che inneggiano all'abuso di droghe no io sono contro ogni tipo di droga sempre comunque non capisco quelli che vengono qua a bestemmiare insultando il buon dio lasciate perdere se non ci credete non rompete le scatole al prossimo ringrazio quelli che credono in me credono nella lega credono nelle nostre buone idee credono in un paese con un po di lavoro in più un po di sicurezza in più e un po di clandestini in meno e un po di furbetti in meno tutto qua ragazzi mezzanotte e 38 i due interisti sono qua che pensano ai gol nel derby io brindo alle loro vittorie ringrazio simone per le rose ringrazio dodì per le rose ringrazio francesco ringrazio benito ringrazio sandria ringrazio chi ci segue dall'albania e dalla romania gli ultimi due messaggini sia la leva obbligatoria no alla leva obbligatoria il bello della democrazia due messaggi di questa straordinaria pagina che dicono l'esatto contrario pensate che ieri sera quando abbiamo cominciato la live eravamo 517 mila stasera abbiamo cominciato questa bellissima diretta che che mi porta sempre qualcosa in più ogni notte siamo 522 mila evidentemente si moltiplica il passaparola la voglia di costruire la voglia di ragionare la voglia di proporre bello questo è il bello dell'italia grazie il bello dell'italia siete voi non qualche professorone qualche pseudo intellettualone qualche televirologo qualche commentatore da salotto televisivo grazie ringrazio rosa ringrazio matteo ringrazio gianluca le sue 37 rose ringrazio chi mi manda i cuoricini ringrazio luli non vedo l'ora di votare per la prima volta e di votare lega francesca mamma davvero matteo riuscite a togliere il numero chiuso a medicina sì volere è potere forza palermo forza napoli e forza brescia tre messaggi di seguito forza voi guai a chi si arrende ragazzi mancano 28 giorni al voto del 25 settembre chi non vota ha già perso chi non sceglie ha già perso chi si arrende ha già perso viva gli italiani che scelgono che osano che vincono e che credono io credo nell'italia e negli italiani e io credo in ciascuno di voi comunque la pensiate vi si vuole bene se ce la faccio ragazzi a domani dalla splendida palermo bacio